Carissimi fratelli e sorelle, grande è la pace che Dio dona a quando si abbandonano a Lui. Noi cerchiamo tante cose, Dio cerca una cosa sola, la nostra salvezza. Dio è uno e quando l'uomo vuole elevarsi fino a Dio deve staccarsi dalle cose della terra. Allora, vedete quando noi preghiamo il più delle volte abbiamo delle necessità, abbiamo dei ferimenti, degli interessi che non sempre collimano con la volontà di Dio e con la ricerca di Dio. Innanzitutto ricordiamo quello che il Signore stesso più volte richiama nei Suoi messaggi nel Vangelo, che non siamo noi che amiamo Dio, ma è Lui che ama a noi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di Lui. E l'uomo allora, fratelli, trova la propria salvezza nell'aprirsi a Dio, nel cercare Dio prima di tutto e al di sopra di tutto e di abbandonare ogni cosa in Lui. Noi arriviamo all'apice della fede quando non cerchiamo altro che Lui, meglio quando ci lasciamo trovare da Lui e ci abbandoniamo a Lui, come ci insegna anche Santa Teresa Davila quando diceva nata da turbe, niente di turbi, perché? Perché solo in Dio devi dimorare. A questo Dio ci chiama, una totale adesione a Lui, immersione a Lui, a anima e corpo, di al prima di tutto, al di sopra di tutto. Chiediamola al Signore, invocando il Suo Santo Spirito, vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura di paro, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei Tuoi fedeli, senza la Tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai Tuoi fedeli, che solo in Te confidano i Tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E nella liturgia di oggi, fratelli, la Chiesa si mette davanti Gesù, Figlio di Dio, davanti al quale le potenze del male fuggono. Davanti al quale, Satana scompare, dove arriva Gesù, basta che lui apra la bocca, pronunci la parola, e Satana fugge. In Gesù c'è la pienezza della divinità. E noi, in Lui, scrive San Paolo e Colossesi, abbiamo parte alla sua pienezza. Ora Gesù non faceva spettacoli, ma liberava quanti si mettevano davanti a Lui, quanti lo avvicinavano. Per questo era venuto. Parlando a San Paolo, sulla strada di Damasco, Gesù ebbe a dire, quando lo fece cadere per terra, gli dice, ti ho chiamato e ti sono apparsi e ti apparirò ancora, perché tu porti il mio messaggio agli uomini, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. Perché gli uomini devono passare dal potere di Satana? Perché quel peccato, ce lo insegna il libro della Genesi, quando ci dice, anche il libro terzo, ma racconta l'episodio del peccato, che noi dobbiamo prendere più che un episodio, un insegnamento, che Satana è entrata nell'uomo e nel mondo attraverso la disobbedienza dell'uomo a Dio. L'uomo è caduto nella malizia, è caduto nel potere della morte, ma è caduto sotto il potere delle cose materiali, per cui noi siamo dominati oggi dal mondo che ci circonda. Dio quando ci ha creati, ci ha creati per dominare. Siamo diventati esseri dominati. Vedete, gli animali oggi comandano. Una volta erano per abbellire la casa, le cortile oggi. Sono asserviti, sono più protetti degli uomini stessi. E l'uomo quindi, servendo Satana, si è sottomesso a Satana. Come dice, si insegna San Paolo, nel sesto capitolo della Lettera ai Romani, quando uno si mette a servizio di un altro, diventa servo di quell'altro. Servo della giustizia, se si mette a servizio della giustizia. Servo del peccato, se si mette a servizio del peccato. L'uomo, ascoltando Satana, si sottopone. E infatti, la prima causa di presenza diabolica nel mondo e nella vita di ciascuno è la scelta del peccato, la sottomissione al peccato. Continuando, troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli, il decimo capitolo, quando San Pietro parla a Cedurione Cornelio, parlando di Gesù, San Pietro dice che Gesù passò sanando e beneficiando tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui. A sua volta San Giovanni, a termine della sua prima lettera, afferma noi siamo Dio mentre tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Come che il maligno regna? In vari modi. I teologi spesso soddividono le opere malefiche in due categorie. Parlano di Satana che regna in maniera diretta e quando si parla di maniera diretta attraverso la possessione, la vessazione, l'ossessione e via dicendo. Cioè, lui agisce direttamente nel mondo o nelle persone. Oppure, in una maniera indiretta, vale a dire, attraverso l'inganno, attraverso la malattia, attraverso l'orientamento sbagliato. Vedete quanta gente spende la vita rincorrendo cose che poi lasciano, che poi si perdono, le ricchezze si perdono. La cultura si perde, è una buona cosa, se usate in modo corretto. Ma quando è fine a se stesso, è un danno, tutto ciò che non viene da Dio, scrive San Paolo nel quattordicesimo capitolo della Lettera ai Romani, tutto ciò che non viene da Dio è peccato. Ecco allora, come ci si libera dal potere di Satana? Con l'obbedienza a Dio. Tanti chiedono esorcismi oggi, benissimo, ma la prima strada per liberarsi è obbedire a Gesù Cristo, lasciare entrare Dio nella nostra vita attraverso Gesù Cristo, sottomettendo la nostra intelligenza, i nostri affetti, i nostri interessi a Gesù Cristo. Tanti vogliono la liberazione solo per non essere danneggiate negli affari e nella salute, ma questa è una liberazione parziale. Dio invece ci vuole totalmente libri, sottomessi alla Sua grazia, animati dal Suo Santo Spirito. Ecco allora quanti di noi fratelli vogliono essere lontani e difesi dalle potenze del male. Dedichiamoci al Signore, sottomettiamoci alla Sua parola. E infatti dove c'è l'obbedienza a Gesù sarà una scappa. Tutto viene benedetto, tutto viene rinnovato, tutto viene rigenerato. Signore Gesù, che liberavi chiunque si avvicinava a Te oggi e libera la nostra società così confusa che non sa più distinguere il bene dal male e viceversa, Signore Gesù, vieni a liberare quando oggi per cultura, per interesse, per sede di ricchezza si allontanano da Te. Vieni a liberarci. Liberaci innanzitutto dall'inganno di Satana perché la nostra vita si è illuminata da Te. Sì, Tu la nostra vita, la nostra salvezza. Tu solo è barone di vita eterna. A Te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, concedi a tutti noi. Tu non sei mai stato toccato da Satana. Il Padre ti ha preservato e ti ha reso vittoriosa. Tu sei la prima creatura della nuova creazione, del nuovo mondo che Gesù è venuto a inaugurare. Tu facci da stella, da luce perché non deviamo né a destra né a sinistra ma corriamo verso il Figlio Tu Gesù Cristo e Lui ci lasciamo illuminare della gloria di Dio Padre. A Te ha Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora accogliamo le messaggi della Madonna, fratelli, che continua a stimolarci a cercare Gesù, a sottomettersi a Gesù, a vivere di Gesù, a vivere con Gesù e per Gesù. È Lui la nostra liberazione. Dove c'è Gesù c'è libertà. Dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Scrive l'Apostolo Paolo e noi a viso scoperto riflettendo come uno specchio la gloria del Signore veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore e a questo Tu sorella, Tu fratello siete destinati ad essere una cosa sola con Gesù per l'eternità. Amen. Grazie. Grazie.